E' deceduta ieri sera al pronto soccorso l'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 87enne di Mirabelle Clano, arrivata a bordo di un'ambulanza al 118 in gravissime condizioni. L'anziana è risultata positiva al tampone rapido. E' deceduta dopo poche ore. Questa mattina l'esito del tampone molecolare nasofaringeo effettuato prima del decesso è processato nella notte. Ha confermato la positività della donna al nuovo coronavirus. Si tratta della ventunesima vittima in provincia di Avellino a partire d'agosto del quinto in 48 ore alla città ospedaliera. L'anziana risultata positiva al virus proveniva da una RSA di Mirabella. Quello delle residenze per anziani è uno dei temi caldi di questa nuova ondata del contagio, esattamente come la prima. In Irpinia infatti dopo i casi di Volturare e Nusco, ora bisogna attenzionare anche Mirabella, dove ieri sono stati registrati altri 12 nuovi casi. Infatti, purtroppo, non accenano a diminuire i casi di contagio in Irpinia. Ieri giornata record dove sono stati registrati 247 positivi su 1730 tamponi analizzati. Boom di contagi nel capoluogo con 66 casi di positività. E' dove il primo cittadino festa ha predicato calma senza lasciarsi prendere da allarmismi. Anche ad Avella la situazione è critica, dove quotidianamente il numero di positivi cresce a dismisura 33 quelli comunicati ieri. In realtà, purtroppo, tutta l'Irpinia in questo momento è in sofferenza per una pandemia che è tornata nei numeri a fare paura e purtroppo anche in quello delle vittime, che è una triste conferma.